Perfetto ragazzi, siamo di nuovo qui con il nostro Vesper, solo che è un piccolo particolare questa volta perché ci ho aggiunto anche il calcio Oh, Spoonkiller ragazzi, benissimo, vai Avendo così è più Akab come fucile, un po' più Akab Oh, God, Sad Oh, raga Mamma mia, che cosa al volo, umiliazione al volo, sì Anche se non stiamo sul gioco delle armi, ma per me quella conta come umiliazione proprio Akab No, 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 no Allora, devo avvicinarmi un po' di più quando sto con il Vesper, devo muovere di più la levetta No, cioè ma mi ha riempito di botte Vai ragazzi No, eh, non devo fare Spoonkiller a quanto pare Meglio non fare Spoonkiller, è diverso Dovevo ucciderti già da prima Ho sbloccato il Reaper? Davvero? Wow Wow Akakakaki Oh La faccia Ehm, perché giriamo in tondo io a quello? Ah, ecco Finalmente non giriamo più in tondo, avete visto? Oh Oh Mamma mia che kill La forza Mado Raga Quella kill È la kill della vita Muori One Oddio Io che crepo Signori epic Headshot Make someone Headshot No Oddio Eh, via Ma allora queste scariche Perché non si uccidono? Mannaccia la miseria nera Ok No Non va bene Oh god No Addirittura uno col Gorgon Perché sto girando in tondo da solo Ok Quanto è strunzo Ah, ecco No Non è che stiamo andando abbastanza bene Ah Ho detto Stiamo andando abbastanza bene Le cose sbloccate Annihilator pronto Oh Che kill in volo Consoliamoci ragazzi proprio con ste kill di oggi No Siamo a 14 di kill Così poche Mi sembravano di più L'apparenza inganna signori Cioè Quello non mi aveva visto Eh Non mi aveva visto Voglio ribadirlo Perché è proprio un idiota totale Camper Oddio raga Proprio Io campero Però poi dopo mi sposto Perché è un'ottima tattica questa Via di qua Oh raga Proprio oggi Di tutto eh Di tutto e di più Raga Possiamo arrivare a 26 kill così Di questo passo si Mi sa proprio di si Tra l'altro siamo al terzo posto Finalmente Ragazzi Non mi vedevo l'ora Madonna Confermo Via Oh raga che kill Oddio Vado ragazzi Ho fatto più kill corpo a corpo La partita in cui ho fatto più kill corpo a corpo In tutta la mia vita Oddio Ma mi aveva localizzato Ma come ha fatto Azzù Vai Vedete che ha flat carne No Fuori Vaffunculo Non imitatemi Idioti Capito Non imitarmi Idiota Teniamo i ripristino eh Quello stronzo Eh non ho capito come funziona i ripristino Vai E così Boom Oddio Mi sento potente Oh Vai terzo posto Oddio ragazzi Maternity 3 8 Eccolo lì Ma è veramente lui Oddio Perfetto ragazzi Siamo andati al terzo posto Non ci credo che uno con la Shiva Sia arrivato al primo posto Non ci voglio credere Camper di merda Eccomi lì a destra Con il lanciarazzi in mano Provo a dire Fatemi una pompa Idioti Che poi in realtà dovevo stare Al secondo posto E stavamo tutti e due uguali Ne ho fatti pure di più di punti Spiegatemi questo Ma Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Noi ci vediamo Nel prossimissimo episodio Mi sono divertito Tanto con il Ves Perché tra poco Me lo sposo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi